tre statucce mi curò 50 euro ma il cazzo qua questo non c'è chi è Luca? eh 50 euro quali statucce? no Luca io ho visto io ho visto però tirarono fuori le pallette dal bigliettino dal biglietto ci ho messo la gattana nei buchi tirarono fuori le pallette porca buca li vanno li vanno guallare sotto e li vanno ma li c'erano le palle dentro? li c'erano le palle sul biglietto però anche Massi è stato sì Massi è stato assoluto torcavo un bambino l'organizzatore era però però tu stai destro su tutti quanti che stavano che hanno messo al giro i più alti 50.000 lire vabbè la non curate ma mica se le godono no no se le godono questo è poco mi è fregato un poco io ho vito e le ho la pianta invece le ho perso 100 ovviamente le ho perso 50 invece le ho perso 50 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 tra le cerni e le ho 100 il bolletto beh che tanda parliamo io io voglio